Buongiorno da FETI Online, momento dedicato per le borse, il FUZI MIB cede allo 0,8% circa, però come vedete, questo è un grafico a elementi giornalieri, siamo in decisa ripresa rispetto ai mimi odierni che sono stati toccati intorno ai 27.635 punti, in questo momento siamo sopra 27.900, i prezzi stanno cercando da alcune sedute di lasciarsi alle spalle i massimi di novembre, ieri sembrava che ce l'avessero fatta, poi sono intervenuti degli elementi nuovi nel corso delle ultime ore che hanno condizionato negativamente il mercato americano e ovviamente anche si sono riflessi su quello domestico, questo è il grafico del DAX, a differenza del nostro il DAX ieri aveva cercato di testare i massimi di novembre ma non era riuscito a superarli e oggi riparte da livelli inferiori alla resistenza, sarà solo la rottura di area 16.250 da parte del DAX a confermare l'intonazione positiva del mercato e ovviamente a trascinare al rialzo anche il FUZI MIB, questo è il grafico invece del CAC 40 che è al di sopra dei massimi di novembre ormai da alcune sedute, però come vedete si sta scontrando contro il lato alto di questo canale che parte dai minimi di luglio, la seduta di ieri è stata disegnata come un esempio di shooting star, vedete questa candela con questa lunga coda verso l'alto, si tratta di un elemento che conferma la validità della resistenza, a volte lo shooting star può essere anche il punto di arrivo di una tendenza, non necessariamente rappresenta un massimo, però come vedete candele con queste lunghe code, in questo caso verso il basso, l'avevamo vista sia a metà dicembre che a fine novembre, sono molto spesso l'inizio di un movimento, è evidente quando si posizionano nella parte bassa di un trend ribassista possono essere l'inizio di un movimento di rimbalzo, in questo caso invece essendo nella parte alta di un trend rialzista potrebbero essere l'inizio di una fase calante. Infine guardiamo il grafico del Nasdaq 100, questo è il future, quindi l'ultima candela fa riferimento alla seduta di oggi, ieri c'è stata una forte discesa, oggi c'è un tentativo di rimbalzo, come spesso però diciamo quando siamo in presenza di candele particolarmente estese come quella di ieri è necessario il superamento almeno del 50% della candela stessa, quindi di area 16,375 per negare la tendenza che è in corso. Se passiamo all'analisi del grafico giornaliero del Nasdaq, in questo caso composito, vedete che in questo caso si può notare la decisa flessione, è meno netto rispetto a quello che è sul Nasdaq 100 il potenziale doppio massimo, vediamo se riesco a farvi vedere in modo comparato. Qui abbiamo il Nasdaq composito, vedete i due massimi sono, i due ultimi massimi sono in una situazione decrescente, invece se andiamo a prendere il Nasdaq 100 i due massimi sono praticamente allineati, quindi siamo in una situazione di potenziale doppio massimo almeno per quello che riguarda il Nasdaq 100, perché si sta verificando questa fase di debolezza, la motivazione da ricercare nelle aspettative del mercato sui tassi di interesse, ieri sono uscite le minute relative all'incontro di politica monetaria della Fed del 15 dicembre, dove i membri della Fed si dicono soddisfatti dell'andamento dell'economia e del mercato del lavoro, lasciando intendere che se l'inflazione dovesse continuare a rimanere elevata c'è spazio per un intervento non solo di diminuzione del bilancio della Banca Centrale, ma anche di un vero e proprio rialzo dei tassi, questa è la pagina del CME che presenta le probabilità di rialzo dei tassi di interesse basata sull'analisi dei features sui Fed Funds, vedete nell'incontro del 16 marzo già il mercato si aspetta un rialzo quasi al 70%, quindi c'è la 70% di probabilità che la Fed vada ad alzare i tassi di 25 punti basi, addirittura per l'incontro di maggio dell'81% e di giugno del 94%, quindi siamo in una situazione dove potrebbero esserci 3, forse addirittura 4 rialzi dei tassi, per lo meno questo è quello che sta scontrando il mercato nel corso del 2022. Ovviamente questa situazione ha condizionato negativamente anche il mercato delle obbligazioni, i rendimenti sono schizzati verso l'alto, quelli sul titolo decennale statunitense siamo saliti ben al di sopra dell'1,7% e viceversa le borse invece hanno intrapreso una fase calante, soprattutto quelle dove sono ben presenti i titoli che possono essere maggiormente penalizzati dall'aumento dei tassi di interesse come ad esempio proprio i tecnologici. questo è il nostro grafico del Nasdaq Composito, direi di tenere sott'occhio questo supporto di area 15.000 sotto quei livelli, verrebbe violata questa linea che è la base del canale che appunto contiene il rialzo dai minimi di inizio dello scorso anno e sotto quei livelli c'è il rischio di vedere ribaltato il canale, l'ampiezza del canale verso il basso, sono circa 1.500 punti e quindi vorrebbe dire scendere intorno ai 5.000-1.600 punti di target. Si tratterebbe ovviamente di un movimento non trascurabile che potrebbe anche impiegare qualche tempo per realizzarsi, quindi c'è il rischio sotto questa trend line di vedere una fase negativa sicuramente di breve e medio termine. C'è poi da considerare il fatto che l'indice non ha praticamente mai corretto se non nella prima parte dello scorso anno il rialzo che c'era stato dai minimi di marzo del 2020, in questo momento potrebbe essere quella attuale, una situazione simile a quella che si era vista nella prima parte dello scorso anno dove in realtà la correzione era stata tutto sommato limitata, simile come ampiezza a quella che stiamo già vedendo, poi era stata seguita da una fase laterale e c'era stata ripresa il rialzo, ma non si può escludere invece che questa volta si vada in conto a una fase correttiva più consistente. Questo è invece il grafico dell'Eurostock 50, molto simile tutto sommato a quello del Nasdaq, possiamo metterli anche a confronto per vedere che c'è una notevole similitudine per lo meno per quello che riguarda il timing dei punti di svolta, ma anche da un punto di vista delle prospettive. Qui come sul Nasdaq c'è il rischio di essere in presenza di una figura a doppio massimo, i due massimi, quello di ieri e quello del 18 di novembre sono sostanzialmente allineati, sono su livelli molto simili. È evidentemente prematuro parlare di realizzazione del doppio massimo, sarebbe poi necessaria perché la figura venga completata alla violazione del minimo di fine novembre, però vedete già se dovessimo scendere sotto questa trendline che passa intorno ai 4080 punti, che parte dal minimo di marzo del 2020, già la violazione di questa linea farebbe temere l'avvio di una correzione, anche in questo caso che potrebbe essersi limitata al breve e medio termine, quindi magari interessare area 3950, ma potrebbe anche essere in realtà l'inizio della correzione di tutto il rialzo del minimo di marzo del 2020. Quindi occhi puntati per quello che riguarda l'Eurostox 50 su area 4100 come supporto. È evidente che se invece i prezzi dovessero trovare la forza per lasciarsi alle spalle area 4410-4420, questo rischio di essere in presenza di un doppio massimo di informazione verrebbe notevolmente ridimensionato e si potrebbe iniziare a guardare con maggiore fiducia anche alle prospettive di rialzo. Oggi guardiamo per quello che riguarda il video riservato agli utenti Patreon quattro titoli particolarmente interessanti, per alcuni di questi c'è una variazione di giudizio target da parte dei broker, vedete su Stellantis Kepler ha rivisto il target a 30 Euro, su Generali Deutsche Bank ha invece abbassato il giudizio a mantenere da comprare anche se ha alzato leggermente il target price e su Ariston Equitasim si è detta positiva, in questa lista poi abbiamo aggiunto anche Intesa San Paolo che oggi si comporta molto bene riuscendo a contrastare la situazione negativa del mercato e addirittura il guadagno dello 0,5%. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero, vi invito a visitare anche la nostra pagina Facebook Financial Trend Analysis dove da qualche giorno sto pubblicando anche degli articoli di finanza personale che vengono ricavati dal sito di FTA Online, quindi ci sono anche degli spunti interessanti per quello che riguarda la finanza personale, vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.